Ciao amici, sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Questa mattina parlo di rugby, per un appassionato come sono io penso ci siano poche cose più belle che passare una mattina vedendo due partite di rugby championship. Oggi infatti ho giocato la Nuova Zelanda contro l'Argentina e l'Australia contro il Sudafrica. La rivincita delle due partite della settimana scorsa che avevano dato risultati piuttosto sorprendenti con la vittoria dell'Argentina in Nuova Zelanda e la vittoria dell'Australia contro il Sudafrica. Il mondo è tornato a posto perché oggi sono tornati a vincere le due squadre più quotate che hanno rimesso a posto quelli che sono i valori. Lo hanno fatto in maniera entrambe netta, lo hanno fatto in un modo diverso. La Nuova Zelanda ha vinto addirittura per 53-3 contro l'Argentina Hamilton in una serata piovosa, in una partita che la squadra di Foster ha controllato sostanzialmente dall'inizio alla fine. Il Sudafrica invece è andato a vincere a Sydney, ha vinto al termine di una partita robusta e combattuta per 24-8, una bellissima vittoria. Come dicevamo, anche in questo caso pioveva all'inizio della partita, il Sudafrica ha dominato per 80 minuti. Ora, tra l'altro, situazione di championship divertentissima perché abbiamo tutte le squadre assolutamente vicine. La Nuova Zelanda 10 punti, Sudafrica, Australia e Argentina 9 punti. Quindi a due turni dalla fine, equilibrio assoluto. Come dicevamo, le due squadre sono arrivate a questo risultato in un modo completamente diverso. La Nuova Zelanda, gli All Blacks schierando la stessa formazione, gli stessi 15 iniziali che settimana scorsa avevano perso con l'Argentina, i Sudafrica invece cambiando 9 giocatori su 15 rispetto a quelli che avevano perso ad Adelaide. Però se si accettua quello, quello che mi è piaciuto di queste siede della Nuova Zelanda che è di Sudafrica oggi è stato aver dimostrato in un momento difficile, comunque per quanto abbiamo detto, la Coppa del Mondo è tra un anno, c'è tutto il tempo per mettersi a posto e soprattutto il vero rugby che bisogna vincere è quello che si terrà tra un anno. Questo championship è un percorso, è una tappa di un percorso e quindi comunque vincere poi da sempre ottime sensazioni che servono per preparare meglio il futuro. La Nuova Zelanda mi piace, mi è piaciuto il fatto che con gli stessi uomini abbia giocato una partita invece completamente diversa, soprattutto dominando i punti di incontro, seppur ogni tanto con qualche errore che non sembra ancora d'Or Black, però ha giocato in una maniera molto consistente lungo tutta la durata della partita. l'Argentina forse ha giocato in una maniera un po' più leggera, considerando l'impresa che aveva fatto a Crestius la settimana scorsa, ha comunque combattuto, soprattutto in apertura di secondo tempo, nel quale, almeno da un punto di vista fisico, ha tenuto molto impegnato la difesa della Nuova Zelanda, che però poi soprattutto ha fatto un'altra cosa molto buona, ovvero nell'ultimo quarto di gara, diciamo tra il sessantesimo e l'ottantesimo, dove normalmente è calata o comunque ha fatto più fatica, stavolta ha allungato, ha dato la sgasata decisiva, per allungare a 50 punti di scarto, compreso poi anche la volontà di giocare a partita già vinta, l'ultima azione, e andare a siglare un'ulteriore meta. Questo mi è piaciuto molto, così come la grande partita di Sam Kane, il capitano, uno degli uomini più sotto pressione sul pianeta, almeno da un punto di vista sportivo, e che invece ha dimostrato oggi, sia da un punto di vista offensivo, sia da un punto di vista difensivo, di essere ancora un giocatore sicuramente molto valido, mi è piaciuto anche, ha trovato più ordine anche negli adult, durante le pause di gioco, meno gente che parlava, un Kane che andava gruppo in gruppo a dare a lui indicazioni, anche molto preciso, quando c'erano le punizioni, a decidere dove mandare la palla, mi sembra un Kenki si sia ripreso in mano alla squadra, mi sembra una Nuova Zelanda che è ripartita da concetti precisi, e che diventa molto, molto ancora più pericolosa, e poi penso sia la favorita, deve giocare contro l'Australia, probabilmente anche un po' la favorita per portarsi a casa questo championship, questa tappa intermedia sul percorso della World Cup. Bene anche Savea, ha bene tantissimi giocatori per la Nuova Zelanda, nell'Argentina direi Gallo, soprattutto ha giocato piuttosto bene, per il resto un po' tutti, ecco la Argentina ha fatto parecchi cambi, la necessità di cambiare forse così tanti giocatori dopo aver ottenuto un risultato così positivo, forse a mio avviso non c'era, per quanto poi sono partite comunque preparatorie, ci sta di fare ruotare un po' tutta la rosa. Sudafrica invece ha vinto cambiando molto, ma ha vinto non cambiando la propria identità, il proprio gioco, una partita durissima, una partita rocciosa, una partita che ha trovato il suo punto di svolta, perché Sudafrica stava avendo lo stesso problema della settimana scorsa, dominare il gioco ma non segnare mai. Se pensiamo che era in vantaggio, ancora soltanto una meta di De Allende subito, trasformata 7-0 e poi dal trentesimo, dopo questo vantaggio, quando solo Sudafrica non erano venuti altri punti, un calcio di Lolesio addirittura aveva portato l'Australia a soli 4 punti di scarto. Lì il giovane Moody ha fatto la giocata più bella della sua partita, vincendo un duello aereo su Corribete, ed è andato a schiacciare in meta il 12-3, che ha messo un Sudafrica molto più tranquillo nella ripresa, con il punteggio dalla propria parte, e ha dominato anche fisicamente la partita in diversi punti, e soprattutto dimostrando la grande capacità di giocatori che portano il pallone. Sudafrica ha un'infinità di giocatori in grado di portare il pallone, Marks ha giocato tutta la partita, mi è piaciuto Mark Kietsov nella prima linea della Sudafrica, con anche Malerbe, sicuramente oggi ha giocato una grande partita, ma in generale tutti, mi è piaciuto De Jäger in seconda, la partita di Mostert è stata molto positiva, dietro De Allende ha giocato molto bene, e non è stata neanche male la linea mediana che ha giocato una gran partita, variando anche un po' il gioco. Un bel Sudafrica, un Sudafrica che torna a vincere dopo una vita anche in Australia, peraltro, e un'Australia che invece, credo, abbia perso troppo proprio sul piano fisico. L'Australia è sempre un po' difficilmente valutabile, perché ha troppi infortunati, e quindi ogni volta deve andare a cercare un po' di mettere insieme un 15, che sia però non sempre solo frutto delle scelte dell'allenatore, ma tante volte frutto anche solo delle scelte dei giocatori disponibili. Rissa finale, anche comunque dopo la meta di Mapimpi, che ha schiacciato con Corribete, che andava a difenderlo, come era successo settimana scorsa a De Laide, dopo la meta ha un po' una reazione di Mapimpi, che è andato a prendere per la faccia, per il mento Corribete, e ne è nata una confusione assoluta, che O'Keefi ha gestito con un giallo Mapimpi, e poi vedremo in settimana cosa succederà, soprattutto a Alalatoa e a Ezebet, protagonisti di un duello con gli occhi di fuori, con Manate in faccia, bisognerà capire. Peccato questi momenti, però c'era tantissimo patos, c'era comunque tanto impaglio, e c'è sempre da mandare messaggi che dureranno, anche poi per un anno, fino alla prossima stagione. Grazie ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, settimana prossima pausa con il The Rugby Championship, e poi via con le ultime due settimane, per scoprire chi vincerà. Io tifo Sudafrica, e dico ancora che punto sul Sudafrica. Grazie a tutti, un bacio, ciao da Lox, e grandissima mattinata di rugby.